Siamo in compagnia del professor Luca Rastrelli in occasione di NutriCheto, il corso di perfezionamento universitario. Di cosa parliamo oggi? Sì, oggi parliamo di diete e terapie nutrizionali chetogeniche. Nell'ambito di questo corso di perfezionamento che abbiamo voluto fortemente, in collaborazione con Moscati di Avellino. In realtà questo corso vuole unire delle competenze diverse tra il medico nutrizionista, nutrizionista clinico, esperto di diete chetogeniche e ovviamente la facoltà di farmacia che sviluppa prodotti, integratori, nutraceutici fondamentali come supporto alle terapie dietetiche. Il corso è organizzato in diversi eventi, in realtà sono 12 eventi. Oggi parleremo delle diagnosi strumentali e della terapia nutrizionali chetogeniche. E' molto importante il discorso di suddividere in eventi perché per ognuno di essi possiamo approfondire le tematiche tenendo conto che si parlerà sempre di diete e nutrizione, ma anche di strumentazioni diagnostiche molto importanti e di prodotti nutraceutici. Quindi avremo una serie di corsi avanzati dove anche le aziende parteciperanno, aziende dei settori, con cui faremo anche delle tesi sperimentali perché gli studenti del corso alla fine avranno dei lavori sperimentali perché oltre a essere un momento formativo, Nutricheto vuole essere anche un momento di ricerca. Ricerca e formazione vanno insieme e in questo noi crediamo molto. Prima edizione del corso di perfezionamento universitario Nutricheto, siamo in compagnia del professor Giuseppe Castaldo. Professore, parliamo oggi di terapie nutrizionali chetogeniche. Di cosa si tratta? Le terapie chetogeniche sono terapie in cui si escludono gli zuccheri per un periodo in genere limitato. Questo fa in modo che il corpo possa distruggere il proprio grasso, possa consumare il grasso che è un deposito importante e che spesso crea però anche dei problemi, crea infiammazione per esempio, crea problemi metabolici. E allora può capitare che noi distruggiamo questo grasso ma miglioriamo il metabolismo delle persone. Ma perché si chiamano terapie? Perché non è un modo corretto di mangiare, ma è una terapia per risolvere dei problemi che ha bisogno di protocolli particolari, di protocolli sicuri e di alta qualità. Se queste condizioni sono soddisfatte, noi possiamo combattere molte malattie. Noi oggi combattiamo, a parte l'obesità, malattie importanti come il diabete di tipo 2, piuttosto che dislipidemie, piuttosto che malattie infiammatorie come la psoriasi e la fibromialgia. E addirittura ci sono molti studi a livello mondiale per migliorare la sopravvivenza in caso di tumore. Perché la cellula tumorale si nutre di molto zucchero e togliendo lo zucchero possiamo avere dei risultati. Però sono terapie complesse che hanno bisogno di medici e nutrizionisti preparati. L'Università di Salerno, insieme all'ospedale Moscati di Avellino, si è impegnata proprio a creare una classe di nutrizionisti estremamente preparati per fare in modo che queste terapie non vengano banalizzate, ma vengano fatte con grande precisione.